wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un altro mio nuovo video io sono xyuder e non potevo ovviamente nella season 3 non farvi le soluzioni alle sfide bisogna ragazzi rompere tre gnomi nelle alture dove sono le alture molto semplice siamo nell'isola sopra parco pacifico lo gnomo numero uno ragazzi easy è quello vicino al anzi bisogna cercarlo non romperlo è quello vicino al barbecue gnomo numero uno fatto andiamo direttamente allo gnomo numero due che si trova esattamente qua vediamo se riusciamo ad andare a recuperarlo eccolo qua vicino al questo tronco di albero come vedete davanti abbiamo il faro quindi gnomo veramente super facile da prendere e passiamo molto rapidamente per lo gnomo numero 3 che invece si trova esattamente qua troverete una roccia e lo gnomo sarà lì vicino vale la pena farlo perché sono un sacco di punti esperienza vi serve per il come si dice vi serve per livellare il vostro pass battaglia quindi niente di difficile niente di strano gnomo numero 3 lo prendiamo e ragazzi la sfida è fatta io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale lasciate un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao